Abbiamo immaginato la nostra città come la nostra casa e normalmente nelle case, tutte le donne lo sanno, a primavera si fanno le pulizie e quindi vogliamo potenziare quello che è il problema dello spazzamento in alcune zone della città e c'è una riorganizzazione del servizio. È un progetto sperimentale che durerà tre mesi, che coinvolge e attiva con delle risorse umane ed economiche e quindi che però sicuramente andrà a migliorare il decoro urbano della città in arrivo di questa stagione balneare con un mare ben pulito e lo voglio ricordare a tutti i cittadini che è proprio migliorata la qualità delle nostre acque marine e quindi con l'arrivo dei turisti troveranno una città sicuramente più bella, più ecologica, più sostenibile. C'è in particolare un allargamento dello spazzamento meccanico e manuale in una zona che va dal confine con Montesilvano al confine con Francavilla e dalla stazione verso il mare. Quindi è un potenziamento di quello che già esiste nella zona centrale e invece è una vera e propria innovazione per quanto riguarda le altre microzone di cui ho parlato, quindi a nord col confine con Montesilvano e a sud col confine con Francavilla. Lì prima c'era uno spazzamento settimanale, abbiamo invece istituito uno spazzamento che durerà tre volte alla settimana con un ripasso pomeridiano da parte di altre forze e risorse umane nel pomeriggio. Questo ha un costo ed è per quello che noi stiamo sperimentando questa idea, proprio per vedere se la città risponde perché Attiva ci sta mettendo il massimo dello sforzo, il comune e il nostro sindaco altrettanto, io non mi voglio nominare, però stiamo lavorando perché Pescara sia più bella e più pulita. Però chiedo veramente la partecipazione dei cittadini perché se non mi aiutano i cittadini, se non siamo tutti uniti, abbiamo parlato di casa e quindi di famiglia. Io chiedo a tutti i cittadini di Pescara di sentire la propria città come la propria casa.